Re Teghi non avrà dormito una notte in Italia e non avrà il doppio passaporto italiano. Mancini va a prendere un argentino, completamente argentino, e gli mette la maglia azzurra addosso. Non avrà affatto un giorno in Italia, non lo so. Però, siamo arrivati forse a un punto di non ritorno? Stiamo parlando di un attaccante forte di qualità, lo segue anche il Milan, ma è un altro tema. Stiamo parlando di un'altra cosa. E naturalmente anche il nostro commissario tecnico Roberto Mancini potrà seguire con massima attenzione l'esclusiva di Sport Italia e il calcio argentino, così se vorrà potrà convocare altri 50 argentini, così sarà contento e qualche secondo passaporto italiano lo troverà, Alfredo. Io credo che ci siamo, tanto un argentino in più, un argentino in meno. Siamo tutti contenti che un argentino, ripetiamo, grandissimo giocatore, se lo acquista il Milan, l'Inter, la Juve, Roma, Napoli, Lazio, siamo contenti. Il problema è che l'ha acquistata la nazionale italiana perché ha un passaporto italiano, non ha niente con l'Italia, se non forse una volta è andata in Sicilia o in Sardegna in vacanza con i genitori. Però Roberto Mancini ha detto che fai, non lo chiami in argentino, mettiamogli la maglia della nazionale addosso anche a un argentino. Grazie mister. Oltre il mondiale è mancato anche ormai la maglia azzurra, regalata a gente non italiana, a persone non italiane. Fortissime, ma comunque argentine.